L'arbitro, il tiro di Insigne, il gol, pallone finito sotto l'incrocio, imprendibile per il portiere, battuto al minuto numero 15. La nuova situazione allo stadio Friuli, Udinese 0, Napoli 1, dal dischetto la trasformazione di Insigne, prima di tornare a Verona. Chiusa Manuel per il pareggio dell'Udinese con Kevin Lasagna, tutto questo al ventisettesimo minuto allo stadio Friuli, Udinese 1, Napoli 1. Il pareggio di Lasagna su disimpegno sicuramente da rivedere. L'arbitro Pasqua di Tivoli, cross all'interno dell'area di rigore, per il colpo di testa, il palo nella rete, Bacagliocco. Per il vantaggio del Napoli, Bacagliocco è spuntato alle spalle di tutti ed è riuscito in diagonale a beffare Musso sul palo più lontano, là dove mai il portiere dell'Udinese tra i migliori quest'oggi ci sarebbe arrivato. Esultano, la porta è quella alla nostra destra, gli uomini di Gattuso in campo e quelli in panchina.